ciao a tutti ragazzi bentornati sul mio canale oggi faremo un altro video unboxing cominciamo ad aprire il pacco il pacco è arrivato direttamente da amazon ecco qua apriamo la nostra scatola per fissare due pezzettini di nastro e ora abbiamo le nostre istruzioni vediamo che cos'è abbiamo una cover per ipad pro 11 ecco qua apriamola togliamo protezione nostra cover con tre livelli di inclinazione molto bella e poi abbiamo la nostra tastiera color oro la staccarica usb e basta solo quello c'è e il tasto on off e il nostro caricatore cavetto ok per questo video è tutto grazie per la visione a presto ciao ciao